Ed eccoci tornati, di nuovo insieme in diretta, 46 minuti dopo le 10. Allora, come preannunciato nel nostro sommario, oggi parliamo di un libro che vuole essere un libro, come ho detto già all'inizio, dedicato agli addetti ai lavori. Però ecco, cercheremo di dedicarlo anche a chi ha detto ai lavori non è, grazie alle parole del suo autore. Il libro si intitola Scola Dominici Servizi, il contributo del CAL al Movimento e al rinnovamento liturgico in Italia. Editrice domenicana italiana di Napoli, siamo collegati con il suo autore, il professor Giuseppe Falanga, teologo e giornalista. Buongiorno Giuseppe, benvenuto. Buongiorno Paola, saluto a te e a tutti i testatori. Allora, abbiamo scelto oggi di parlare di questo libro anche per un motivo particolare. Insomma, in concomitanza con questa intervista oggi inizia la settimana liturgica nazionale. Sì, proprio questo pomeriggio a Salerno si apriranno i lavori della 72esima settimana liturgica nazionale che si svolgerà da oggi fino a giovedì 25. Il tema messo a fuoco quest'anno sarà Ministeri al servizio di una chiesa sinodale. E allora, appunto, in concomitanza proprio con questo evento, ricordiamo oggi inizia la settimana liturgica a Salerno, parliamo del tuo libro, un libro uscito da pochissimo. Io partirei, lo faccio quasi sempre quando si tratta di intervistare autori di libri, partirei in qualche modo dalla dedica. Tu hai scelto di dedicare questo libro a quelli che considerano la liturgia una cosa da preti, a quelli che considerano la liturgia una cosa loro, a quelli che amano la liturgia e ne testimoniano la bellezza, e poi al Cal, che mi ha formato alla liturgia della chiesa. Quattro dediche importanti. Sì, allora, partiamo innanzitutto dall'ultimo, ma diciamo e rispetto a che cos'è il Cal. Cal è la sigla di Centro di Nazione Liturgica, questa associazione di cultori di liturgia e di operatori pastorali, data nel 1947, che ha accompagnato tutto il cammino del movimento liturgico e del rinnovamento liturgico all'indomani del Concilio Vaticano II. Il Cal mi ha formato alla liturgia e quindi era un atto dovuto, questa dedica, in un libro che si occupa appunto della storia del Cal e della storia della liturgia. E poi sì, secondo un po' il mio stile, hai toccato il nervo Paola, io sto lavorando da anni attraverso l'insegnamento, attraverso quello che faccio andando in giro per le parrocchie, le diocesi, parlando ai preti e ai vescovi, perché la liturgia sia capita da tutti, è vissuta soprattutto da tutti, non come una cosa da preti. La liturgia è azione del popolo e per il popolo e quindi non è una cosa da preti. Dall'altra parte la liturgia non è una cosa privata o privatistica di colui che presiede o di coloro che esercitano una particolare ministerialità. La liturgia è tale, è vera, è piena, quando tutti partecipiamo, o meglio ancora, dobbiamo educare la gente a capire che tutti celebriamo. Il diacono, il presbitero o il vescovo, al seconda della liturgia o del sacramento che si celebra, è colui che presiede, non colui che celebra. Anzi, meglio ancora, dobbiamo educare il nostro popolo sempre più a comprendere che colui che presiede è Cristo, perché forse solo così daremmo alla liturgia valore, pienezza, significato. Ci immergeremo in essa non con sentimenti pietistici o con un vano, vago sentimentalismo, ma comprenderemo che la liturgia è l'incontro con il Cristo che è al centro di quest'azione come è al centro della vita della Chiesa. Il perché di questo titolo, Scuola Domenici Servizi, una scuola per il servizio divino. Il libro è diviso in quattro capitoli, giusto, più la conclusione, e hai fatto, come dire, una scelta anche in qualche modo cronologica, nel senso hai deciso di dare spazio anche al Cal dagli anni 95-65, poi appunto parli delle varie settimane liturgiche, e a che cosa ti sei ispirato per questa divisione in capitoli? Sì, Paola, diciamo che il fil rouge del libro ovviamente è la storia del Cal, del centro di azione liturgica, e si snoda questa storia soprattutto, innanzitutto, attraverso l'evento più importante della vita del Cal che a tutt'oggi sono le settimane liturgiche nazionali. Dicevo prima che il Cal nasce nel 1947, la prima settimana liturgica nazionale si celebra nel 1949, e da allora fino ad oggi, tranne nel 1956, quando si tenne ad Assisi il famosissimo congresso liturgico internazionale, di cui il Cal fu uno degli enti promotori, e nel 2020, purtroppo a causa della pandemia, la settimana liturgica non ha avuto nessuno stop. Quindi, attraverso il fil rouge delle settimane liturgiche, e anche attraverso l'altro strumento importante con il quale il Cal comunica, cioè la rivista liturgia, si snoda il percorso di questo libro. Diviso in determinati periodi, nel primo capitolo mi occupo della nascita del Cal e del culmine del movimento liturgico, che nasce a fine 800, inizio 900, ed è forte in tutta Europa, che ha grandi rappresentanti, faccio qualche nome, per esempio Odo Case, il Romano Guardini, e poi, insomma, l'azione della nascita del Cal e tutto lo sviluppo, fino ad arrivare al Concilio Vaticano II, e alla costituzione del Concilio sulla liturgia, la Sacrosanctum Concilium, di cui l'anno prossimo celebreremo il sessantesimo. Di fatti, in maniera audace, ho scritto nella quarta di copertina che questo, ma realmente lo è cronologicamente, il primo contributo a celebrare il sessantesimo anniversario della Sacrosanctum Concilium. E poi tutto lo sviluppo del rinnovamento, se si vuole, della riforma liturgica, soprattutto in Italia. E quindi i vari decenni, scanditi anche dalle tematiche date dalla conferenza episcopale italiana per il lavoro, fino ad arrivare, insomma, ai giorni nostri. I grandi eventi di questi decenni, i congressi eucaristici nazionali, adesso ci prepariamo al prossimo, che si terrà nel mese di settembre a Matera, come tutti sanno. E quindi le varie tematiche scandite anche da quelle che erano le necessità, i suggerimenti, dati dalla conferenza episcopale italiana e ovviamente dal Magistero dei Pontefici, che si sono succeduti in questi anni. Ecco, che cosa manca adesso, a tuo parere, anche perché sei accanto a liturgisti e ti occupi di liturgia da tanto tempo? Manca ancora qualcosa al rinnovamento liturgico? Paola, manca la cosa più importante, cioè il ricentramento liturgico della Chiesa. Vedi, io sono solito ripetere una frase che non è mia, ma è del grande padre, Monsignor Annibale Bugnini, che assieme a San Paolo VI è stato l'artefice della riforma liturgica conciliare. Ebbene, Monsignor Bugnini diceva che la riforma liturgica consta di due momenti. Il primo è il cambiamento dei testi. E questo è avvenuto in circa un decennio. Dal 1963 abbiamo avuto la Sacro Santum Concilium e poi è iniziato subito il lavoro di rinnovamento dei testi, dei libri rituali. E in circa un decennio questo lavoro si è concluso. Dunque il cambiamento dei testi. Ma diceva meglio padre Bugnini che il secondo momento della riforma liturgica è il cambiamento delle teste. Quindi siamo ancora in pieno rinnovamento, in piena riforma liturgica. Cambiare le teste significa non fare quello che vuole il Papa, quello che dicono i vescovi o che diciamo i liturgisti, insegniamo i liturgisti o che si ripeterà anche in questi giorni nella settimana liturgica. Ma aderire sempre più a Cristo Maestro. Ecco, scuola, dominici, servizi è la scuola dove si impara a servire il Signore che è il vero ed è l'unico Maestro. Ma servizio qui è inteso non come asservimento, ma come ascolto delle parole del Maestro, nella parola di Dio, nella celebrazione dei sacramenti. Io mi chiedo, lo dico sempre ai miei studenti, dov'è che Cristo ci parla? Nel libro di Giuseppe? Nelle sue lezioni? Nelle belle conferenze? Nelle settimane liturgiche? O ci parla nella sua parola quando celebriamo la liturgia? Dov'è che incontriamo Cristo? Nei libri o altrove? O lo incontriamo nella celebrazione liturgica? Dove ci nutriamo di Lui? Poi viene tutto il resto. Certo, una Chiesa che esce, una Chiesa che serve gli ultimi, una Chiesa che va ai poveri, ma il centro, il cuore della vita della Chiesa è la preghiera della Chiesa, è la liturgia. Se non partiamo da questo, se non c'è un ricentramento liturgico della vita della Chiesa, noi non andiamo da nessuna parte. E adesso, come dicevi, appunto ti ringrazio per la chiarezza perché abbiamo esposto i contenuti di questo libro anche ai non addetti ai lavori e ci stiamo preparando al congresso eucaristico di Matera per poi prepararci ad un altro evento ancora più importante che è il 2025, il giubileo del 2025, quindi ecco, anche quello un evento importante per tutti noi e per la Chiesa e questo libro è uscito da poco, stai già lavorando a qualcos'altro? Non spoileriamo come direbbero i giovani. Pensando, allora, poiché prima di questo ho scritto un libro Fai vivere e santifichi l'universo, Eucaristia, creazione e fede, su suggerimento del mio parroco vorrei lavorare al rapporto Eucaristia-famiglia. Ecco, ti posso già anticipare il titolo se ci riuscirò a scriverlo. L'Eucaristia fa la famiglia. Paola, credo che sia importante riflettere sulla famiglia ancora una volta, ecco, dal mio ambito, a partire dalla liturgia e dall'Eucaristia. Se non al centro della vita e della pastorale della Chiesa, non c'è la liturgia, ma noi diciamo sempre che la Chiesa è famiglia di famiglie. Se l'Eucaristia fa la Chiesa, l'Eucaristia fa la famiglia. Quindi vorrei lavorare su questo nei prossimi mesi. Bene, allora, ti ringraziamo per questa anticipazione. Naturalmente vogliamo essere tra i primi ad averne notizia così da poterti ospitare, almeno idealmente, nei nostri studi e fare una piacevole chiacchierata come quella di oggi. Allora, ricordo il titolo del libro del professor Giuseppe Falanga, Scuola Dominici Servizi, il contributo del CAL al movimento e al rinnovamento liturgico in Italia e il libro edito da editrice domenicana italiana, la EDI. Grazie ancora, buon lavoro, buon ritorno a scuola, all'insegnamento. Grazie, grazie. Naturalmente. Questo è Casaloro. grazie ancora al professor Giuseppe Falanga. Anzi, 11 minuti proprio in questo istante. Facciamo ancora una breve pausa e poi di nuovo insieme con la seconda parte di Tempo d'estate. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.